a gennaio e ci ha passato quattro mesi, io parlo fra quindici giorni abbiamo i spareggi e ci giochiamo la vita, io voglio che noi, sono venuto qua per far capire alla città che noi in Serie A ci vogliamo andare, ok? Perché io nella vita voglio solo che migliorare, non voglio peggiorare e se c'è un'occasione nella vita per sfruttarla, la sfrutto come un carro armato, se ce la facciamo siamo stati dei grandi, se non ce la facciamo sempre dei grandi sono stati ragazzi, ma se state sicure che ce l'abbiamo messa tutto per provarci, è questo che sia chiaro, io vorrei che la partita ai playoff, la semifinale in casa, l'arbitro quando entra c'è Fischetto che gli trema talmente dal boato che c'è.